Marika Minervino, una partita con Ariane Irpino che ha lasciato l'amaro in bucca, nonostante l'attenzione sulla loro struttura di squadra e soprattutto la loro preparazione dal punto di vista tattico. Sì, allora noi ci siamo preparate bene come hai detto e alla fine perdere di due punti è difficile stare lì a capire qual è stato il problema perché due punti può capitare per una pala persa, un rimbalzo mancato e quindi stare lì a capire poi qual è stato il motivo è molto difficile. Noi ci siamo preparati comunque bene e al di là del risultato possiamo comunque essere contenti di come abbiamo affrontato la partita. La prossima partita con il Viterbo può essere considerata una partita per la salvezza? Sì, infatti è l'ultima occasione che abbiamo qui in casa di vederci di nuovo confermate e sperando che dovremmo mettere tutto il nostro impegno e ce la faremo. io credo benissimo in questa vittoria. L'umore della squadra con l'inserimento delle due nuove compagne e per affrontare un nuovo incontro importante? Le nostre nuove compagne Lella e Emanuela ci stanno dando una mano molto importante sia per quanto riguarda a livello proprio di spogliatoio perché sono due persone bravissime e anche a livello tattico ci stiamo trovando molto bene. La squadra sta girando e infatti siamo pronte anche per la prossima partita qui in casa. Cerchiamo di mettere tutto il nostro impegno.